Musica Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca. Questa mattina interrogatore di garanzia per l'ottantenne che ha ucciso con un colpo di pistola la moglie malata. Era successo nel quartiere Giotto, il servizio di Chiara Sadotti. È stata una cosa che lui voleva fare, dichiarire quello che era successo e compatibilmente quello che ricorda, perché comunque lo shock rimane forte, quindi lui ha una visione limitata proprio agli ultimi momenti. Ha deciso di raccontare la sua verità e ripercorrere quegli attimi terribili. Alessandro Sacchi, l'ottantenne che lo scorso 21 giugno ha ucciso la moglie malata di Alzheimer con un colpo di pistola, questa mattina reso interrogatorio all'interno del carcere Aretino di San Benedetto. L'uomo accusato di omicidio volontario aggravato per la prima volta ha raccontato al PM Marco Dioni quanto accaduto quella notte all'interno dell'appartamento di Via Legiotto. C'era una situazione di grande tensione, la signora sicuramente si era aggravata enormemente e in realtà il motivo è abbastanza futile, cioè stava ritornando, voleva portarla a casa a letto perché era mezzanotte insomma e lei faceva molta resistenza. A questo punto ha impugnato la pistola, ereditata dal padre mai denunciata ed è esploso un colpo contro la moglie. È stato lui poi quella sera a chiamare prima i vicini e poi i soccorsi. È andato lì a avvertirli e dopo è ritornato su e si è seduto accanto a lei. L'ottantenne in occasione del funerale della donna ha inviato una corona di fiori. Delle rose rosse. Alessandro Sacchi a breve potrebbe essere trasferito, i legali chiederanno per lui i domiciliari non appena sarà individuata una sistemazione alternativa. Stiamo valutando delle possibilità, con una sorveglianza però confidiamo in lui. E oggi Arezzo ha salutato Monsignore Luciano Giovannetti scomparso il 29 di giugno, il giorno in cui cadeva l'ottantesimo anniversario della strage nazifascista di Civitella a cui Giovannetti era sopravvissuto. Luciano Giovannetti agiva nel silenzio di nascosto, non cercava la visibilità, anzi la schivava. Il suo tratto più distintivo era fare del bene in silenzio. Arezzo ha salutato con una cerimonia in Duomo Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesoli, avrebbe compiuto 90 anni a luglio. La scelta di entrare in seminario dopo l'uccisione del suo parroco Donald C. De Lazzeri nella strage nazifascista di Civitella in Valdichiana, paese di origine. Al momento della rappresaglia, durante la Santa Messa, Giovannetti era solo un chierichetto di 10 anni. Donald C. De offrì la sua vita in cambio di quella dei suoi parrocchiani, ma non fu ascoltato. Giovannetti è scomparso proprio il 29 giugno, giorno in cui ricorrevano gli 80 anni dalla strage. Lui era riuscito a scappare, forse non gli avrebbero fatto niente perché aveva 10 anni, ma comunque era riuscito a scappare. Ecco, a 80 anni da questo tristissimo episodio, lui lascia la vita terrena. Forse è un segno, un segno della vita, un segno del Signore. Il suo ministero, prima presbiteriale, poi episcopale, è stato sempre nella ricerca della pace e nel sostegno alle popolazioni martoriate dalle guerre. Fu lui, oltre 25 anni fa, a fondare la fondazione Giovanni Paolo II per aiutare i cristiani in Medio Oriente. Di aiutarli cercando di costruire ospedali, scuole, ecco, specialmente scuole per bambini, l'infanzia, perché questi venissero indirizzati nella vita e nella vita quella che è giusta, quella che lui riteneva giusta, che è quella di Cristo. Per me lui è tra quei tanti santi che sono oggi sconosciuti alla Chiesa. Lui è senz'altro in paradiso, perché se non fosse così, oh, miei cari, è senz'altro nella gloria che ci guarda. E forse, come ieri sera, un vescovo mi ha detto, guarda che da lassù lui ci sta prendendo tutti in giro. E ho detto, sì che è questo per cercare di farmi gioire, di farmi essere meno triste. Oggi, primo luglio, addio al mercato tutelato per quello che riguarda la fornitura di energia elettrica. E allora arrivano i consigli da parte degli esperti. Sentiamo. Finisce il primo di luglio il mercato tutelato dell'energia elettrica, cioè la fornitura con condizioni economiche e contrattuali, definite da ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. E' quindi obbligatorio il passaggio al mercato libero per quasi tutti i cittadini, ad eccezione dei cosiddetti soggetti vulnerabili, categorie di persone che per età, condizioni economiche o di salute potranno proseguire con l'opzione di maggior tutela e con lo stesso fornitore. Tra le possibilità c'è anche quello di dare consulenza e poi di conseguenza seguire nelle scelte anche più abitazioni. In questo caso è stata Arezzo Casa ad affidarsi a voi. Esatto. Arezzo Casa è diventata da pochissimo nostro cliente, stiamo entrando con loro in fornitura. Ovviamente è una casistica molto delicata perché lì si fa riferimento all'edilizia ERP, quindi a delle categorie protette e ovviamente anche lì siamo ad affrontare una grande pena che è quella della povertà energetica che in Italia riguarda circa il 19% delle famiglie. Come orientarsi dunque nella giungla delle tante offerte? Non vi vincolate con un distributore ma fate dei contratti aperti e se notate delle irregolarità all'interno delle bollette quindi con dei costi previsti che non sono stati parametrati all'inizio o dal consulente o dal soggetto che vi ha appunto fatto firmare il contratto, cambiate immediatamente il fornitore. Ovviamente il servizio a casa dell'energia è sempre aperto, noi abbiamo uno sportello dedicato quindi non col center che ovviamente creano ancora più disagio alcune volte per le varie persone. sappiamo che i telefoni squillano in continuazione con queste offerte più o meno vere. Voi potete venire in sede da noi e ovviamente il nostro personale vi saprà dare una consulenza abbastanza approfondita perché noi non rappresentiamo nessun distributore in particolare ma ovviamente prendiamo e cerchiamo di prendere il meglio per i nostri clienti. La sala operativa di protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti fino alla giornata di martedì 2 luglio. le zone interessate sono tutta la parte costiera ma anche le aree appenniniche nord orientali e la valtiberina per quello che riguarda ovviamente il territorio aretino. A partire da oggi prende avvio la fase di sperimentazione operativa interna nella zona rettina del sistema emergenza sociale. quando entrerà in funzione sarà un regime che permetterà di fronteggiare H24 e 365 giorni all'anno situazioni gravi e improvvise sotto il profilo sociale. C'è un 118 per la risposta sanitaria, H24 365 giorni all'anno, un intervento immediato, ecco dal 2025 sarà così anche per i servizi sociali. Si chiama SEUS, sistema emergenza urgenza sociale, un progetto che da oggi prende avvio anche nella zona rettina. L'obiettivo è quello di rispondere alle emergenze che sul territorio avvengono giornalmente in modo strutturato, in modo appropriato integrando tutti i servizi che possono essere interessati a seconda delle situazioni che quotidianamente si possono incontrare sul territorio. Il servizio serve proprio a far sì che anche nel caso di situazioni in emergenza si riesca tutti insieme, tutti i servizi, quindi ospedale, territorio, ma non solo, anche i servizi comunali a rispondere in maniera corretta. Il SEUS è un pronto intervento sociale e regionale, uno strumento di secondo livello per rispondere alle situazioni di emergenza sociale, personale o familiare, ma anche a situazioni di violenza ed abuso nel percorso di rete codice rosa, abbandono, non autosufficienza e anche condizioni di povertà. Inizia quindi con oggi per sei mesi un periodo di formazione, di sperimentazione per verificare che le situazioni di emergenza urgenza abbiano il corretto procedimento, il corretto rapporto anche con la centrale operativa SEUS che opera a livello regionale e che è quella che poi attiva la risposta nell'emergenza urgenza 365 giorni l'anno per 24 ore al giorno. Quindi una centrale che è sempre aperta e che è sempre operativa. Se questa sperimentazione interna darà buoni frutti, come tutti noi immaginiamo, visto la grande motivazione e partecipazione di tutto il personale, di tutti gli assistenti sociali a questo momento formativo, da gennaio potremo consegnare ufficialmente il numero dell'emergenza urgenza agli assistenti sociali del territorio, alle amministrazioni, alle forze di polizia e al pronto soccorso, con degli step che avverranno gradualmente ma che poi porteranno al regime tutti gli interlocutori e tutti gli attori del sistema a poter usufruire di questo servizio. Presto l'ospedale del Casentino avrà a disposizione un nuovo sistema radiologico telecomandato digitale, un'apparecchiatura diagnostica di nuova generazione per l'esecuzione di radiografie che garantisce una migliore qualità delle immagini radiologiche a fronte di una minima dosi di esposizione ai raggi X del paziente. A dare questa notizia è Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che commenta così l'avvio appunto dei lavori iniziati grazie ai fondi regionali del PNRR. Parliamo adesso invece di adozioni. Siamo andati ad intervistare Alberto Brandi, il veterinario di Castiglione Fiorentino, che recentemente ha presentato anche il suo libro Gli animali ci salvano, ma con lui abbiamo appunto parlato di adozioni perché insomma durante l'estate sono state tante le cucciolate di gatti che sono stati accolti dal suo ambulatorio e non solo. Una piaga, dice Brandi, purtroppo del territorio aretino. Abbiamo questa piaga che secondo me è una vera e propria piaga degli abbandoni dei gattini piccoli. Noi tutti i giorni riceviamo richieste di aiuto e ogni anno non cambia niente. Al momento sono solamente quattro amici ospitati dal veterinario Alberto Brandi che cercano casa, ma dall'inizio della bella stagione sono stati decine e decine i gattini ai quali ha trovato una famiglia. Una situazione che ciclicamente si ripropone anno dopo anno con due 300 cuccioli abbandonati curati gratuitamente nel suo ambulatorio sino all'adozione. E così il dottor Brandi lancia nuovamente il suo appello per tutelare questi animali. Secondo me ci vuole, lo ripeto, ci vuole che chi deve fare le leggi, quindi la politica, prenda in mano questa situazione. Probabilmente loro non si rendono nemmeno conto di quello perché tra le associazioni di volontariato o chi come me fa quel poco per questi animali, magari il problema non arriva nei piani alti di chi deve comandare e quindi non gli riguarda. Però vi assicuro che c'è e non è bello vedere questi gattini che poi a volte arrivano sani, a volte invece arrivano malati, sono soli, vivono ora d'estate su gabbie calde. Noi più di quello non possiamo fare che curarli, dargli da mangiare e cercare un'adozione. Però secondo me ci vorrebbe poco, ci vorrebbe che le persone sterilizzassero. Le sterilizzazioni non costano un patrimonio. Ci vorrebbe il microchip per i gatti perché almeno sappiamo di chi sono. Quindi ci vorrebbe anche l'educazione proprio che deve partire dalle scuole per rispetto degli animali, delle loro cure, di quello che c'è bisogno da fare. Perché in quest'altra maniera ci comportiamo come un paese di serie B. E parlando ancora di animali, proprio questa sera, subito dopo il nostro telegiornale, ospite di Fattore D, la nostra trasmissione che parla di donne, Alessandra Capogreco, presidente dell'EMPA, che come sappiamo gestisce il canile municipale, sarà ai microfoni di Chiara Sadotti e quindi non perdete questa puntata. Un incontro positivo e costruttivo, quello che si è svolto lo scorso mercoledì 26 giugno tra il Vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca e Don Ignazio, il Vescovo della città di Makeni, nella Sierra Leone. Un incontro che è stato reso possibile grazie al lavoro che Carlo Landucci svolge da più di vent'anni in Zambia e da circa 12 proprio in Sierra Leone, insieme all'Associazione Occhi della Speranza, di cui è presidente. Monsignor Migliavacca, ha detto Landucci, non conosceva la nostra associazione e quindi era curioso appunto di conoscerla. Ci ha fatto tante domande, l'incontro è stato proficuo per la nostra associazione e grazie alla disponibilità del Vescovo Migliavacca si sono gettate le basi per una collaborazione futura. Il giorno perfetto si intitola così la mostra di Fabio Bardelli, ospitata dal Palazzo della Provincia. Una pittura che diventa pittura immersiva, la pittura che spero rappresenti bene il fatto di essere pittura. Trenta opere, tutti quadri dell'artista Fabio Bardelli, in mostra al Palazzo della Provincia di Arezzo. Il giorno perfetto è il titolo dell'esposizione personale, l'allestimento non prevede pannellatura di supporto nell'uso delle pareti. Il lavoro che è qui presentato comprende un arco di quattro anni, il fatto di presentarle in questo modo era dato soprattutto dall'idea, dalla necessità di non poter usare le pareti affrescate giustamente. Quindi, visto che comunque le dimensioni lo permettevano, abbiamo cercato di creare queste isole per poterci girare intorno, più che come una mostra pittorica, come un'installazione di quadri. Bardelli è una delle figure pittoriche di riferimento nel territorio aretino. Le opere che sono da vedere, vedere da vicino, osservare, sono delle opere che escono dal quadro e in questo contesto bellissimo dell'artista di Torino della Provincia di Arezzo penso che farete una bellissima esperienza, non solo visiva ma anche immersiva nell'arte. Quindi, coniugando le bellezze del classico con il moderno e anche accettando le sfide che queste immagini rappresentano. Il tutto a tutela, ripeto, di un artista a chilometro zero. La mostra resterà visitabile sino al 21 luglio 2024, da giovedì a domenica dalle 11 alle 20. Siamo alla pagina dello sport. Le ragazze under 17 dell'Arezzo Calcio Femminile conquistano il quarto posto alla Final Four nazionale. Si conclude la grande avventura delle Amaranto Under 17 dell'Arezzo Calcio Femminile che si sono piazzate quarte nella Final Four nazionale. Un risultato storico che rimarrà negli annali della storia della società Amaranto. Nonostante due sconfitte, c'è sicuramente da applaudire le ragazze Amaranto per aver sfiorato la finale contro un'ottima Juventus ed aver tenuto testa alla Roma. Sono molto orgoglioso, ha detto il presidente Anselmi di questo finale di stagione disputato dall'Under 17. Di fatto un premio a tutto il settore giovanile. Il bilancio è sicuramente eccellente perché hanno raggiunto grandi risultati in ogni categoria. La primavera disputerà anche il prossimo anno il campionato Primavera 1. L'Under 17 è arrivata tra le prime quattro d'Italia. L'Under 15 ha avuto una crescita esponenziale vincendo la Coppa Toscana contro la Fiorentina. Un plauso anche alle più piccole, Under 12 e Under 10, che stanno creando futuro oltre alle vittorie nei tornei di categoria. Il dato più importante è proprio questo, conclude Anselmi. 14 bambine che hanno iniziato a giocare a calcio e lo hanno fatto indossando la maglia dell'Arezzo. Il tennis giotto invece vince il titolo toscano a squadre con l'Under 16 maschile. Il merito è di Gianmarco Cartocci, Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia che si sono alternati in campo nel campionato regionale che di successo in successo sono arrivati fino alla finalissima dove hanno trionfato per 2-0 sullo Junior Club Next Gen di Ronchi. Ed infine parliamo di ciclismo, torna una classica di prestigio per gli Elite e Under 23. Domenica 7 luglio, con partenza e arrivo a Rigutino, si correrà la 63esima edizione del Giro delle Valli Aretini. 17esimo trofeo Rosini-Impianti. Partenza ufficiale intorno alle 14 nell'Albodoro spicca nei nomi di Francesco Moser nel 72 e di Pantani, terzo nel 1991 e che nel 92, appena dopo aver vinto il Giro d'Italia di Lettanti, dette appunto spettacolo sulla Libia prima di essere frenato poi da un problema meccanico intorno a Palazzo del Pero. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio allora con la puntata consueta del lunedì, la nostra trasmissione che parla di donne, fattore D, ospite questa sera nel salotto di Chiara Sadotti, Alessandra Capogreco, presidente dell'EMPA di Arezzo. Grazie per l'ascolto e arrivederci.